Per me essere qui è sempre un qualcosa di molto particolare, quando possibile mi piace esserci perché non è solo una questione di essere legati alla propria città, vuol dire anche essere legati alla storia del basket for olive, a questo palazzo, a tutto quello che in fondo è stata la storia della pallacanestro, quindi mi piace vivere questo ambiente anche in un momento come questo, mi piace pensare di portare bene perché ormai sono diversi anni che cerco di essere qui all'inizio della nuova stagione. Essere qui è speciale perché si respirano i momenti che hanno fatto grande questo palazzo e che hanno fatto grande la storia del basket a Forlì, quindi per me rimane un momento molto caro anche perché la possibilità di vedere tante facce così conosciute e poi in questi tempi così complicati erano facce che da tempo non vedevo dal vivo, quindi è particolare, è sempre molto speciale essere qui. Ci tengo a continuare questa sorta di tradizione. Quest'anno mi è capitato diverse volte di vedere le partite, le nostre partite di Forlì, quindi ho avuto un'idea del tipo di stagione che è stata e devo dire così che la sensazione, vedendo la nuova squadra, è che ci si trovi di fronte a un gruppo più completo, più equilibrato, più profondo. Per cui tocchiamo ferro, ma le premesse di una squadra con maggiore sostanza e maggiore potenzialità ci sono. Poi ripeto, ogni stagione batte in qualcosa che si chiama anche imprevedibilità, fortuna. Noi quest'anno siamo andati su e giù per le montagne russe nel momento più bello ci è arrivato addosso il Covid. Non si sa come può girare una stagione, però sulla carta penso che sia stato fatto un buon lavoro e che ci sia la potenzialità di un buon campionato. Il pubblico è un elemento molto importante e non solamente per il puro aspetto, chiamiamolo, economico. È importante perché riesce a trasmettere supporto, emozioni, le sensazioni che in fondo ricordavo prima dentro questo palazzo sono sensazioni che si sono vissute con un pubblico come quello forlivese che nei momenti importanti, chiamiamoli epici, è sempre stato incredibile. Quindi posso immaginare un palazzo pieno o quasi pieno il tipo di supporto che può portare la squadra che è molto importante.